Le sensazioni ufficiali della Progracelli 2012-2013, parliamo di Serie B, con noi il dottore generale Giancarlo Romainone. Giancarlo, le sensazioni? Le sensazioni sono positive, si percepisce l'entusiasmo che la gente e i tifosi ci trasmettono e la squadra sa benissimo che se mai ne avesse bisogno c'è un motivo in più per far bene. Senti, due hai fatto un appello perché a Piacenza bisogna esserci, i tifosi devono sostenere. Io credo che di a Piacenza parte le nostre fortune di questi anni sono state il grande entusiasmo, la grande unione che si è creata tra società, squadra e tifoseria. Stiamo per iniziare un campionato lungo, impegnativo e difficile, non può venire meno una di queste componenti. Siccome società e squadra stanno facendo di tutto per essere pronti, ci auguriamo che, come crediamo certo che sia, anche la tifoseria sicuramente, ma tutta intera la città, possa sostenere tutti noi. Grazie Giancarlo Romainone. Grazie a voi.